buonasera amici salito salito un saluto a tutti e niente così volevo farmi sentire perché da molto poco non faccio video non è che per di altro niente di eccezionale non so lo so ma io ero abituato a fare anche due video a settimana poi uno e niente che il tempo è quello che lavoro mi impegna tantissimo il mio lavoro perché esso notturnista faccio turni mattina e sere o anche notti noti anche noti certo e poi niente ho avuto il covid ho avuto e quindi sono stato un po fuori dal giro diciamo dei dei video e niente mi auguro di ricominciare prima o poi a fare qualche video perché è una cosa che mi piace devo trovare solo l'ispirazione per ricominciare e spero di trovarla presto dai niente non so io penso a poco gli amici che seguo vi continuo a seguire sempre mi vedo in questi video li commento a volte non li commento ma non perché non li voglia commentare perché non ho proprio il tempo c'è riguardo così al volo qualcuno dal lavoro qualcuno dal telefonino e poi niente sono stato male ho fatto quasi 15 giorni a casa per il covid niente di particolare ho avuto solo un mal di gola forte per un paio di giorni poi mi è passato venerdì questo discorso l'entrata lavoro e quindi niente così mi auguro di che ci vediamo presto un saluto a tutti ciao ma non bacio a tutti ciao ciao ciao